Buonasera ragazzi, come stiamo? Tutto bene? Ragazzi, è mercoledì, siamo a metà settimana. Come state? Tutto a posto? Io sono molto stanco, però sono sempre qua. Non si molla mai, mai mollare, fino alla morte. Noi siamo sempre a coro, sempre. Non partire, ragazzi. Un po' di pausa. Un po' di suspense. Come avete passato la giornata? Tutto bene, ragazzi? Io vi direi, alla nostra. Un boccino non fa mai male. Un po' di suspense. Un po' di suspense. Ma a proposito, vi ricordate l'asino di sala 2? Quando uscivate dalla sala 2 con la macchina di fronte c'era l'asino, una rete. Il guadalà vinceva a FUSIIII! Vi ricordi l'asino figlia. Vi ricordate l'asinello? A proposito, volevo dirvi, ragazzi, che è arrivata la lettera dalla vicina, che la musica era troppo alta, ma io mi sono congegnato un nuovo metodo stereo vicino al telefono, attaccato a 10 centimetri. Qua in palco. Così, noi non vogliamo mai. La musica si sente sempre. E noi non possiamo mai fermarci. Il tempo vuola troppo, ragazzi. Viva che la hardcore si cancelli dal mondo. C'è il messia, terminato, che ve la porta in tutto il mondo. Così non scompare mai. Il messia della hardcore. The future. The future. The future. The future. Sabato, super piramide, ragazzi. Vediamo come va. Non so dove e come, ma si farà. Protagonisti. I warrior. Magari, ci sono anche tanti gabberdi, lo sa. Vedremo come va, che vi leverano fuori. Ti dico solo che lo fanno a presa centro. Non posso dimmi dove, però è così. Però ragazzi, sarà una bomba. Io pensavo, faccio un bel pranzetto. Vivo bene, mangio bene. E poi vado a fare la piramide, ragazzi. Bello fuso. Nel sito number, ragazzi, tanta roba. Non si spacca. Tanto il sottoscritto, devo andare il pomeriggio. Non sono il diretto. Perciò, posso godermire per vedere più bello di così. Non si roz Alfredo. Non sentiamo gli parenti, ragazzi. Nel sito del video diulkendiamo. Non sentiamo gli altri spoli. Non sentiamo gli dynamic Crapponi, ragazzi, ragazzi. Non sentiamo gli Internet. Nel sito del video. Non sentiamo gli motivi. se vuoi la rannanda ragazzi apriranno un genere gabbia senza mascherina noi andremo a dominare la sala 2 tanto che sogniamo still die lie dicevo mentre sogniamo ascoltiamo al port si porterà all'orizzonte lì si apriranno le porte di sala 2 noi saremo il nostro regno la nostra casa Is Alvarez oggi abbiamo un stream del 2001 Is Alvarez mi raccomando sempre da Via Milano solo bombe a mano Misty Guy mi raccomando ragazzi fate una buona serata buon'olta e noi ci vediamo domani sono il mio posto sono il mio posto sono il mio posto ciao ragazzi un bacione fate l'avvento ciao a tutti sempre parkour ciao a tutti ciao a tutti